Si deve continuare a fare prevenzione, l'unica arma vera che abbiamo ancora per il coronavirus. Chiaramente i vaccini sono prevenzione, l'utilizzo della mascherina rimane il presidio sicuramente numero uno per proteggersi dal coronavirus, ma il distanziamento è fondamentale. Il distanziamento di due metri e con l'utilizzo della mascherina sicuramente non viene trasmesso il virus. So che è una cosa difficile quella che sto chiedendo, che dovrà essere normata secondo il mio punto di vista, veramente. Dovrà essere messa poi una responsabilità a chi non segue questo, perché l'alternativa che cos'è? Chiudere tutto? L'alternativa è ammalarsi tutto? Io credo che in questo momento dobbiamo assolutamente provvedere con quello che abbiamo a disposizione, cioè la prevenzione, lavarsi le mani, l'utilizzo della mascherina e il distanziamento. Non è il distanziamento, come è stato detto, sociale, è il distanziamento per proteggersi dal coronavirus. Non è il distanziamento per proteggersi dal coronavirus.